Quattro operatori in box chiusi, una superficie di oltre 120 metri quadri e accessi regolamentati con dispositivi elettronici. Il tutto per offrire all'utenza un servizio ancora più qualificato ed efficiente. Sono i nuovi uffici di Aset in via Nolfi che da oggi sono aperti al pubblico. Qui nei nuovi uffici Prometeo ci saranno i servizi relativi al gas, luce, illuminazione evotiva e imposta di soggiorno. Mentre negli uffici precedenti abbiamo lasciato l'accertamento della sosta e il censimento degli impianti termici. Come vedete Aset Holding in questi due anni si è ingrandita molto e quindi chiaramente gli uffici nuovi erano indispensabili. Cura e ricerca del particolare unita ad un nuovo concetto di assistenza alla clientela sono stati i principi ispiratori di questo nuovo spazio pubblico con una sala d'attesa che presenta ampi spazi ed una particolare attenzione a portatori di handicap e fasce deboli che avranno percorsi preferenziali. Le fasce più deboli che sono i disabili e le donne in gravidanza hanno una priorità di servizio, quindi di accesso agli sportelli, digitando la loro categoria, selezionando, dando la macchinetta e dopo noi possiamo dare una precedenza assoluta sul servizio. Ecco c'è anche una privacy maggiormente rispettata, sono box chiusi, questo a tutela proprio dell'utenza. Notevolmente sì perché l'utente è più libero di parlare, confidarsi e quindi anche noi abbiamo un approccio al lavoro migliore.